Paola Pezzo, la soddisfazione per il successo, il terzo in stagione di tuo figlio. Chiaramente non è un ritorno al passato, chiaramente oggi vedere il proprio figlio vincere è una splendida emozione. Ma sì, è sempre bello essere nell'ambiente. Certo, oggi insomma, diciamo che lui alterna un po' la multidisciplina, strada, mountain bike, ciclo cross. Si sta divertendo, questo è molto importante. Insomma, poi si vedrà adesso ancora giovane, però insomma dai qualche soddisfazione se l'è tolta, poi insomma di strada ce n'è ancora tanta. Avresti mai voluto un tuo figlio in sella alla bicicletta dopo chiaramente il tuo passato ricco di soddisfazioni? Ma noi l'abbiamo sempre lasciati stare, che sceglievano loro quello che volevano fare. Hanno iniziato il grande anche giocando a basket e poi è voluto lui iniziare ad andare in bici. Il piccolo giocava a calcio, dall'anno scorso ha detto basta calcio, voglio andare in bici. Insomma, noi non gli abbiamo spinti, vogliamo che facciano quello che si sentano, insomma, che si divertono soprattutto. Pezzo e Rosola, chi è il vero campione in famiglia? Eh, c'è una bella lotta, perché insomma abbiamo due figli, il grande assomiglia un po' più a lui come muscolatura, come quasi un velocista passista, invece questo piccolo assomiglia più a me, più scalatore. Insomma, c'è una bella lotta.